L'interessante di IAC è che intanto viviamo in un paese in cui ci sono pochissime iniziative di questo tipo, quindi in qualche maniera la cosa che dovrebbe essere normale diventa eccezionale, quindi c'è una speranza di eccezionalità nel voler aver costruito un momento di confronto, un momento diciamo di indagine attraverso il concorso. Nonostante tutto in questo paese giustamente si crede ancora al concorso come modalità di confronto e IAC ha dimostrato che non ci crede, solo l'architetto che magari può essere parte in causa e quindi in qualche maniera fazioso. Quindi è un germe positivo che speriamo diventi un germe che possa diffondere sempre di più il progetto come strumento di dialogo e il dialogo come strumento di progetto.